Bene, bene, Sindaco. Mi piacciono i fiori, bellissimi. E poi diamo questo, poi loro riceveranno un bonetico da parte nostra. Parlando di livello economico non è quello, quello no. E fa bene. Sì, loro due. La terza macchia. Ecco che... Eh, no, si veniva, si veniva. Un viso noto ultimamente. Bene. Grazie. Brava, le mancavo un altro. Sta arrivando. Sta arrivando? Sì, sì, è qua dietro. Bravissime. Bravissime. Iniziavamo un ora tutte le sere a guardare. Non la guardavo mai, ma dopo cominciamo a guardare. Invece tre o quattro. Invece tre o quattro. Invece tre o quattro. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Complimenti. Bravissime. Adesso è sospeso. Adesso si è sospeso. Quelli riprenderanno loro. Te rocco. Però se noi te la potessi e vanno partecipare. bravissime te. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. No, brave e anche graziose, eh, si sono dimenticati. Bellissime, eh. Bravo. uv innovation. arena là … Bravo, Lu JJe. Bravo, io lo dico. Bravo, noi mi chieda, ciao. Questo è il piccolino, ormai è cresciuto. Eccola qui, una bella foto, bene.